C'è chi va a tutta coda, io vado a tutta coda. All'ESPO a tutta coda è presente anche la sezione di Torino della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente. Su Torino siete attivi da poco tempo, ma è un'associazione ovviamente che a livello nazionale esiste da molto. L'associazione si occupa della difesa di tutti gli animali, quindi noi abbiamo tra l'altro qui le petizioni che sono andate. Abbiamo finito i moduli della non macellazione degli equini, del divieto di consumo della carne di cane, quindi portavanti delle cose importanti. In più ovviamente c'è il discorso animali d'affezione, cani e gatti, stiamo procedendo bene. Su Torino ci occupiamo un po' di tutto, quindi dai canili ai gattili, abbiamo le colonie feline che sono un discorso grosso su Torino in questo periodo. collaboriamo anche con la consulta, non ancora come Leida perché ci siamo da troppo poco, però io e la signora Busato, che è la tesoriera, siamo dentro con altre associazioni perché cerchiamo di collaborare con tutte le associazioni perché quello che cerchiamo di fare è mettere la sinergia nelle cose che facciamo e quindi non isolarci ognuno nella propria nicchia. Che è sicuramente una cosa importante perché le battaglie sono molte tra l'altro per i diritti degli animali e quindi più si è e più si è compatti ovviamente più si riescono a ottenere risultati. C'è una grande opera anche di sensibilizzazione. Moltissimo, soprattutto lavoriamo su quello. Infatti adesso abbiamo un progetto di fare un corso, ovviamente gratuito, per le volontarie cosiddette di strada, quindi le gattare, le signore. Perché vediamo che c'è poca informazione, quindi Torino ha un bellissimo regolamento a tutti gli animali che pochi conoscono e quindi non viene rispettato, non viene applicato. Noi cerchiamo adesso di fare un minicorso che dia delle indicazioni sia a livello legislativo, che è di comportamento, di soccorso, a chi rivolgersi quando capitano delle cose, per cercare di rendere dotti e poi facciamo un po' da centro di raccolta delle informazioni perché poi le persone ci chiamano, è successo questo, ed è molto interessante, molto faticoso, molto interessante. È una sezione, dicevamo, che è nata da poco. Quante siete e magari c'è bisogno di altri volontari, di chi possa aderire, come può fare? Abbiamo tanto bisogno di volontari, di volontari, per esempio, noi non riusciamo a seguire bene il discorso informatico, quindi fare una bella pagina, che racconti, perché siamo sempre operative sul campo e quindi riusciamo a seguire poco questo. E sarebbe importante, per esempio, avere qualcuno bravo su internet che ci faccia una bella pagina, qualcuno che ci aiuti nel fare le catture, portare gli animali a sterilizzare, andare a riparenzare. Abbiamo tante cose da fare, ognuno potrebbe trovare proprio spazio con noi. Allora, facciamo anche un appello, chi può rendersi utile in qualche maniera con le sue competenze, sicuramente si può rivolgere a voi, diciamo, come trovarvi. Ci contatta il nostro sito sulla pagina Facebook, quindi c'è lei da Torino, ci trovano molto facilmente, c'è tutto, ci sono anche i numeri di telefono, abbiamo tutta la disponibilità. Grazie. C'è chi va tutto gas, io vado tutto a coda.